Si è parlato di turismo, dell'Etna, del mare e della Valle dell'Alcantara, questa mattina a Fondachello, nel tavolo di lavoro organizzato dalla Proloco di Mascheli, presieduta da Roberto Patanè, che attraverso una sinergia con gli esercizi del litorale ionico, i lidi balneari e le attività ricettive, vuole valorizzare le bellezze culturali e paesaggistiche del territorio. Creare delle sinergie, delle opportunità alla pari tra gli endi, tra tutti gli operatori, dai lidi balneari e BNB e tutte le strutture ricettive in generale. Forti è un paese che dal mare alla montagna si inerbrica, quindi coniuga perfettamente le attività marinare a quella della collina qua all'Inunziata e la media montagna, quindi mettere insieme in realtà come Milo, Sant'Alfio, la stessa Mascheli, Riposto, Fiume Freddo e tutti questi paesini, in tale da creare situazione che Mascheli e le attività rivierasche pubblicizzano le attività che avvengono a mondo. Al tavolo dei relatori Nino Laspina, Presidente nazionale Proloco UMPLI, Santi Gentile, Presidente provinciale UMPLI Messina, Maurizio Signorelli, esperto marketing, Carmelo Nicoloso, esperto escursionista, Filippo Grasso, docente dell'Università di Messina, la dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero di Giarra e Monica Insanguine e il Sindaco di Mascheli Luigi Messina. L'obiettivo del convegno è quello di riflettere e ragionare sullo stare insieme, lavorare insieme per il territorio e mettere insieme le competenze e le professionalità. Questo è il primo obiettivo su cui noi si soffermeremo in questa mattinata. Secondariamente, capire qual è il prodotto turistico dell'area in cui le Proloco operano. Io credo fermamente nell'importanza della collaborazione con gli enti che insistono sul territorio. La peculiarità dell'Istituto Alberghiero fa sì che ci possa essere un'intesa tale da produrre dei risultati. Per ciò che mi riguarda avrò modo di dare la massima disponibilità, di dichiarare la massima disponibilità affinché il nostro supporto possa essere concreto e per gli alunni possa rappresentare un'occasione di alternanza scuola-lavoro, ma anche un momento di collaborazione con le Proloco, con le attività che riguardano il turismo, di interazione col territorio e di esperienze personali e professionali che avranno una ricaduta importante sulla loro formazione. La Proloco sta continuando un lavoro che noi come amministrazione abbiamo dato come importanza primaria per poter sviluppare il lavoro nel nostro territorio dai primi giorni dell'amministrazione perché parlare di turismo significa parlare dell'unico tipo di attività che un'amministrazione nella nostra zona può incendivare. Stiamo lavorando in sinergia costante con gli operatori del settore cercando di dare sia quei piccoli strumenti che possiamo dare ma anche idee e organizzazione affinché le persone che vengono ad alloggiare nel nostro territorio e da indotto sviluppano posti di lavoro. Pertanto la concentrazione di tutte queste attività sono rivolte a questo, a sviluppare posti di lavoro. L'unico modo per farlo è incrementare il turismo. Noi lo scorso anno abbiamo sviluppato con pochissimi denari ma grazie all'apporto dei privati circa 40 serate su Fondaghello e qualcosa anche nel territorio. Due elementi essenziali che sono quasi fondamentali. Tutto sono i servizi che riguardano l'ospedale di Giarra e l'altro gravissimo che da mesi che lottiamo è di avere un mare pulito. Ci sono molti endi che non riescono a capire che il loro futuro dipende dal loro mare e pertanto se non riescono a capire questo, soprattutto le aree che vengono dalla zona nord del nostro mare, cioè dall'area del Messinese, se non prestano quella giusta attenzione i risvolti negativi non saranno solo per quest'area ma anche per loro.